E' diventata ormai una consuetudine la presentazione a Firenze, nella sede della Presidenza della Giunta regionale, la lunga estate di spettacoli, eventi culturali, artistici, sportivi e turistici della città di Livorno. Livorno infatti, molto prodiga in questi interventi da quasi due anni a questa parte, vuole creare una corrente di attori e spettatori che vada al di là dell'autosufficiente ambito locale. A presentare la chermesse in regione, insieme al Presidente Gianni, sono stati il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, l'Assessore della Cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi, quello al commercio e turismo Rocco Garufo. Il cartellone di eventi Livorno, l'estate più lunga del mondo, avviato lo scorso 18 aprile, si concluderà in effetti a fine dicembre 2023. E' giunto quest'anno alla seconda edizione, dopo l'esperienza del 2022, oltre 500 sono gli appuntamenti in programma, fra cui tre mostre, alle quali assai probabilmente, strada facendo, se ne aggiungeranno altre di rilievo. Un'altra lunga estate attende la città di Livorno, all'Echita rispetto allo scorso anno di nuove ed interessante iniziative, ha affermato il Sindaco Salvetti. La bella stagione darà un'ulteriore spinta al programma degli eventi, che proseguiranno fino alla fine dell'anno, donando emozioni e divertimento. La novità dell'estate 2023, ha precisato il Sindaco, sarà la notte dello sport in programma il 22 luglio. Nella occasione, dalle 18 a notte inoltrata, la cittadella dello sport, in via dei pensieri, per l'occasione chiusa al traffico veicolare, sarà infatti animata da esibizioni di ogni specialità, a conferma della vocazione sportiva di Livorno, che detiene tra l'altro il più alto numero di medaglie olimpiche mondiali ed europee tra le città italiane. E ancora, da qualche anno, insieme al lavoro della Fondazione LEM, sulla cui gestione si aprì però più di un warning da parte delle opposizioni, nell'ultima sessione di bilancio, l'amministrazione ha chiusato Salvetti e ha acceso i riflettori sulla città, valorizzandone le bellezze e le peculiarità ed aumentando l'offerta culturale e spettacolari. Salvetti ha anche evidenziato che la lunga estate livornese dello scorso anno ha visto la partecipazione di circa 400 mila persone e che Livorno si è finalmente posizionata all'interno della proposta turistica della Toscana e nel 2022 si è registrato un 6,25% in più rispetto allo stesso periodo del 2019 e più 11,25% rispetto al dato del 2021. In Toscana l'ambito rivollese, secondo Salvetti, segna la seconda migliore posizione come percentuale di recupero delle presenze turistiche della 2019. Tra gli eventi in programmazione a giugno ricordiamo 151 miglia, Straborgo dal 1 al 4 giugno, il 5 giugno la Coppa Risiatori, dall'8 all'11 giugno praticamente piazza 20 settembre, tra il 12 giugno e l'11 di settembre Sguardi in Fortezza, tra il 9 e il 25 giugno Scenari di Quartiere, tra l'11 e il 18 giugno Montmartre Garibaldi Solandata, tra il 16 e il 18 giugno San Patrizio Livorno Festival, il 17 giugno la Coppa Baruntini, il 18 giugno 150 anni Benetti, il 23 giugno Fuoco di San Giovanni, tra il 22 e il 25 giugno Surfer Juice Amber Festival e il 1 luglio una nuova edizione del Palio Marinaro.